Musica Amici, siamo in tema di ferragosto ci stiamo divertendo tutte le sere spero che il mio contributo qui a Marsaglia stasera sia di vostro gradimento e vi voglio far divertire grazie questo è Vittorio Repparati e adesso signori la bottigliera è una cosa eccezionale mi spiace perché facciamo un po' la figura dei ciocchi ma non li siamo e dopo di prima abbiamo Donaldo Donaldo lei ci assolverà vero? eh sì penso tanto facciamo allegria noi allora andiamo con la bottigliera signor Polka eh Polchetta sono io pronto aspetta un attimo eh 3, 2, 1 vai meraviglioso meraviglioso verso signori e Vittorio Repparati adesso sono bottiglie e stradivari e Vittorio e Vittorio che e Vittorio che spino Lloris e Vittorio, Chelsenari, la latisa armònica, Lloris. El vino de alegría. Lloris e Vittorio, Chelsenari, la latisa armònica, Lloris.